Musica Benvenuti a TG Sadi, giovedì 1 settembre Assalto con sparatoria, furgone e portavalori sull'Atrea Salerno e caccia e rapinatori composti di blocco ed elicotteri Mentre il camioncino entrava in galleria è stato superato da un'auto con a bordo 4 uomini che hanno esploso dei colpi di pistoli Gettato sull'asfalto bande chiodate per far fermare il veicolo Scesi dalla macchina con un flex hanno tagliato la laniere e asportato 4 sacchi contenenti in valore ancora da quantificare Poi sono fuggiti Aggredisce rapina prostituta, arrestato, l'uomo marocchino 28enne avvicinato la donna sulla litoranea di Ponte Cagnano E dopo averla percossa l'ha rubato la borsetta contenente 250 euro e documenti San Marzano sul Sarno, figlio aggredisce padre che gli nega i soldi per la droga I militari sono stati chiamati dalla madre dell'uomo mentre percoteva il genitore 63enne In casa è stata trovata anche della marijuana Evade domiciliari, preso 28enne di nocera inferiore Il giovane che si trovava fuori dall'abitazione alla vista dei carabinieri è salito su una sorta di ballatoio Che sovrasta l'accesso di una pizzeria Poi è entrato in casa attraverso una finestra apposta al lato posteriore dell'appartamento Ma i militari lo hanno scoperto ed arrestato Giffoni di servizi alle poste di Curti Il sindaco scrive al prefetto Questa mattina gli uffici postali della località picentina sono rimasti chiusi senza preavviso Generando tensioni tra i residenti della zona CSTP Sant'Occhio sperimenteremo la figura dell'agente unico a bordo Tale provvedimento spiega intende contrastare l'evasione di biglietti Inducendo i viaggiatori a adorarsene prima di salire a bordo per evitare di pagare una maggior azione Malutenzione strade a Castel San Giorgio Longanella scrive a Feola Il primo cittadino fa appello all'assessore provinciale per trovare una soluzione Che migliori il servizio di taglio dell'erba e cigli delle strade provinciali Che attraversano per circa il 70% il territorio comunale Giovanni Italia e Azione Universitaria chiedono la sospensione di Pasquino Un disappunto nasce dalla scelta del rettore di consentire che la festa regionale dei giovani democratici Potesse svolgersi all'interno dell'Ateneo Salerno Calcio Palestrina Ecco i prezzi dei biglietti L'acquisto potrà essere effettuato dalle 10 di domani in tutte le ricevitorie lottomatiche di Salerno Provincia e zone limitrofe Il costo per la Tribuna Rossa Nord e Sud è di 20 euro Tribuna Azzurra 10 Curva Nord e Sud 7 euro Stasera via settembre culturale al castello L'attesa manifestazione si terrà ad Agropoli a partire dalle 18.30 Protagonista è il vincitore del premio Zingarelli 2010 Alfonso Cernelli Per approfondimento e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.pargatosa.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti